Gioia! Ciao! Chi è? Come stai? Bene, grazie. Stai bene? Sì, sì, sto bene. Buongiorno. Buongiorno. Sono un collega della signorina Elvira. Sono venuto a aver mangiato un boccone, poi non mi sono sentito bene, allora mi sono sdraiato un momentino. Ah, ma non si preoccupi, mica il primo, sa. Prego, s'accordo. Grazie. Faccio qualcosa da mangiare? Ecco, vai, vai. Brava ragazza, Elvira, eh? E vedi un po', fallesse pure cattiva. Certe volte mi sveglio la notte, a guardo, ammazza la guante brutta o manco a Ligiani. Pare in citofono. L'immortacci sua. Au, parlamose ieri, lo dico, io sto qui perché non c'ho un altro posto da andare a dormire, ma come trovo? Via! Io la capisco benissimo, lei ha tutta la mia solidarietà. Però, sai che ti dico? Tu mi sei simpatico. Beh, io te giuro che come trovo un'altra sistemazione, te lascio il posto. Magari, avrei già dato la caparra. Ah sì? Meno male, che salvata che mi hai dato per oggi.